Siamo a Trastivere davanti a due pietre d'inciampo che sono state ieri vandalizzate, sono state immediatamente ripulite, è un gesto inaccettabile, incollerabile. Queste pietre d'inciampo ricordano la deportazione, l'uccisione di cittadini romani che sono stati uccisi perché ebrei con la Shoah, con i primi del nazifascismo e noi non accettiamo che si colpiscano questi simboli così importanti che sono patrimonio della memoria di tutto il paese e di tutta la città, che ricordano l'uccisione di ebrei romani, cittadini del nostro paese, da parte di uno dell'atto criminale più drammatico della nostra storia. Quindi sono qui a esprimere la ferma condanna di questi atti di vandalismo e dire che Roma respinge ogni atto, ogni gesto di antisemitismo, di intolleranza, di razzismo. Grazie a tutti.